e faceva più o meno così, è il momento interattivo, quindi dateci la mano ecco praticamente vuol dire questo, momento interattivo non date fastidio a voi due, porta a voi va bene, va bene Meglio eh, possiamo far meglio dai, anche se è un funerale dai, per il tricolo un po' più lì, un po' distante, un po' distante, adesso sarà meglio E' un po' distante, un po' distante, un po' distante Lei 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti